Le campagne elettorali vanno impostate con largo anticipo, in questo senso Pettinari Docet. Se n'è convinto anche Carlo Costantini dopo la sconfitta alle amministrative dell'8 e 9 giugno scorsi. Un difetto caro al centro-sinistra, dice quello di annunciare il proprio candidato a una manciata di mesi dal voto. Dagli errori si impara, ma anche dalle positive esperienze come quella del lavoro svolto dal principale competitor di Masci e dal suo movimento civico formato da giovani candidati già pronti ad impegnarsi per una campagna elettorale lunga due anni e mezzo fino alle elezioni per il primo consiglio comunale della nuova Pescara gennaio 2027. Un lavoro che dai banchi di una ferma opposizione a Palazzo di Città si espanderà anche a Montesilvano e Spoltore per coinvolgere realtà civiche di quei territori e si prepara anche ad innalzare barricate all'Aquila qualora dovesse prendere corpo l'ipotesi di un ulteriore differimento della fusione nel 2028. Questa decisione nasce da tante consapevolezze. La prima è che è impossibile preparare una campagna elettorale in due mesi e quindi abbiamo deciso di prenderci due anni e mezzo. La seconda è che c'è la necessità di integrare la presenza dei movimenti civici e di estenderla anche alle città di Montesilvano e di Spoltore perché le prossime elezioni interesseranno una comunità che è più ampia di quella attuale. La terza è che vogliamo valorizzare il nostro straordinario programma di governo, ampliarlo, approfondirlo ulteriormente per rendere la base del programma amministrativo dei prossimi anni. Alla base di questo c'è anche un'altra considerazione. Noi tutti candidati, compreso i candidati che sono vicino a me, abbiamo respirato in questi giorni tanto entusiasmo, tanto sconforto perché i cittadini che ci hanno sostenuto aspettavano un esito diverso, ma anche tanta voglia di ripartire. Noi non possiamo tradire questo entusiasmo, non possiamo tradire questa voglia di cambiamento e quindi ci siamo sentiti in dovere di ripartire da subito. E sulle anomalie nelle operazioni di spoglio, Costantini non parla di brogli ma richiama il caso Campobasso. Ci sono state una serie di anomalie enormi, delle sezioni chiuse alle 4 di notte, altre sezioni fatte sgombrare. Io ho iniziato a esaminare i verbali e vi assicuro che ci sono verbali vuoti, dove non sono nemmeno indicati i voti espressi alle liste. Ci sono dei verbali che contengono delle carenze e delle lacune incredibili e ci sono altre piccole anomalie che in qualche modo somigliano a quelle di Campobasso. Ci sono circa 14-15 sezioni senza voto di giunto. È impossibile che in una sezione non sia uscito in voto di giunto, se è vero come è vero che in tutte le sezioni ne sono uscite 5, 10, 15, 20. E questa situazione specifica riavvicina il caso, limitato a 15 sezioni, a Campobasso era tutto, avvicina questo caso al caso di Campobasso in cui le schede, i voti aggiunti non sono stati scomputati. E poi esiste un altro dato molto particolare che vede da una parte il sindaco Masci trascinato dalle liste, è eletto quasi esclusivamente con il consenso delle liste e dall'altra parte in alcune sezioni prendere 30, 40, 25 voti a titolo personale. Anche questo sulla base delle informazioni che abbiamo assunto potrebbe essere il prodotto di una difettosa applicazione della complessa regola del voto di giunto.